La parte divertente La parte divertente I primi latte sono quelli da chiesa Non c'è una svolta a sinistra Occhio al tornante tecnico Mi sono addobbato Tornante tecnico Ma che stanno arrivando? Tornante tecnico Questa è la serpentona Questo è il serpente Non quello che è Non è il serpente Non è il serpente Non è il serpente Non è il serpente Ma che stai da latta Ma che ne ha fatte? Ma di vada Tornante tecnico Sempre Razzius 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 Scava eh Qui c'è pure l'edicolato Questa è l'antinimbasso Questa è qui e via Beh Per un caescutacchi Quei bravo La frutta, le verdure E quando cazzariamo? Svermare? Svermare proprio Vabbè 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 E vabbè Vabbè mazza che bello sto passaggio è il paico è carino a bici si capisce un sacco di volte qui c'è fai tutte le sgommate di scesa ovviamente no l'ho fatto pure in salita in salita è figo perché è sfissoso i tornanti in sua banale in bicicletta perché c'è lo scalino che rompe il cazzo e lo scalino è scesa comunque c'è sempre la spinta la devi spingere noi stavamo là sotto noi stavamo là stavamo là su che sta ancora fumo dalla sgommata che abbiamo fatto guarda ancora non c'è ti dico Emanuele metti la telecamera alta non vedo niente all'orizzonte e Roberto di Frascati chiuse ecco lì ecco lì ecco lì forse arriva qualcuno regà mettetevi comodi che me svegliate quando arrivano avete rotto il cazzo se c'è qualcuno da qua no stiamo aspetto a due carota a segheria come sulla cuda Sveglia, sei, sveglia! Oh, sono arrivati, andiamo, andiamo!